A cosa serve una canzone in definitiva, a farti sentire talvolta anche un poco più viva? Tutto il silenzio che ti porti adesso è qualcosa che non ti servirà. Canta insieme a me questa canzone che con le parole possa farti essere felice, un poco di soddisfazione personale perché lo sai talvolta non ti hai detto che faccia male. E ancora un po' di nostalgia insieme a me, qua ti porti via in questo attimo di solitaria energia. E allora inizia pure a cantare a questa bella mia canzone che ti posso regalare. Ci sono solo quattro accordi che si mescolano in questo istante, io e te siamo costante gravitazionale e ci imitiamo perché vogliamo amare. Cosa posso dirti? Io sono qui per accompagnarti in questi tuoi disegni umani. Cosa posso dirti? C'è soltanto da meravigliarsi quando incontri quei tuoi grandi piani. Avevi pensato che in questo mondo potessi essere inventato e invece già qua avevi creduto che questa tua vita fosse bastato. Un sogno della tua realtà non è facile lo so qualvolta ci incagliamo dentro alle parole però il bisogno che hai di vivere non te lo regalerò perché quello lo hai già inventato tu. Cantiamo questa canzone insieme che ci possa riunire nelle nostre scene d'amore. Cantiamo questa canzone insieme quando soltanto quattro accordi possano anche bastare. Ci sono dei giorni nei quali ti sbagli ci sono dei giorni nei quali sei a spaccare petardi e ti arrabbi con le mani spatti nel muro tutti i tuoi sogni. Proprio in quei giorni si scrive la storia della tua vita e quindi questa canzone ha una sua funzione ben precisa. Ascoltala in questi momenti. Ascoltala proprio in questi momenti. Ascoltala proprio in questi momenti.